Bene ragazzi, benvenuti in uno speciale dei 4.000 iscritti Volevo innanzitutto ringraziarvi In questo periodo mi state sostenendo tantissimo Poi soprattutto in queste vacanze di Pasqua che abbiamo trascorso Abbiamo fatto tantissimi iscritti Volevo ringraziarvi anche perché stiamo aumentando con il numero di pollicioni in su E anche di commenti e di condivisioni Vi ringrazio veramente tanto Grandissimo e bellissimo traguardo per me questo qua dei 4.000 iscritti Perché è da circa 6 mesi che ho aperto il canale Ed è veramente una bella cifra Anche perché me li sono proprio sudati Perché c'è molto lavoro dietro ai miei video Ci sono dalle 3 alle 4 ore di editing Vi ricordo che io ho più di 100 video E cerco di pubblicare costantemente due video a settimana Anche se prima ne facevo uno E vi ricordo che sono il mercoledì e il sabato Verso le 14 Vi ricordo che Mi chiamo Luca Sono un maschio e porto i capelli lunghi Lo so Alcuni mi dicono Eh ma Luca mi sembra una femmina Ho capelli lunghi e Quando mi crescerà la barba Nessuno si confonderà più Tempo 3 minuti a tagliarli E invece 3 anni per farli crescere Al momento ragazzi mi piace tenere i capelli lunghi Chissà magari un giorno Quando sarò un po' più grande Deciderò di tagliare i capelli Però Non ho nessuno che mi corre dietro Che mi dice che Devo per forza tagliarmi i capelli Ora parliamo un po' di collaborazioni Sono molto attento a collaborazioni Perché vorrei fare proprio una collaborazione seria Con youtuber che sono attinenti a me Che fanno il mio stesso genere di video E che hanno su anche un po' di video E che abbiano un certo numero di iscritti Anche se avete queste due caratteristiche Se fate gaming per esempio GTA, Minecraft o FIFA Non c'è coerenza tra di noi Non può nascere una collaborazione Oltre alla quantità di video di iscritti Bisogna vedere anche la qualità del video L'editing E se voi mi chiedete Di fare una collaborazione che avete Due video E 10-15 iscritti Che magari quei due video sono anche fatti male E imparate magari prima a farvi le ossa Che poi gli iscritti arriveranno automaticamente E io naturalmente non posso accettare Una collaborazione del genere Perché non avrei nessun vantaggio Poi mi è anche capitato che Mi hanno chiesto una collaborazione E nei video C'erano molte parolacce Per esempio Anche in una o due frasi C'erano già tre o quattro parolacce E non mi va di fare video Con questa gente Perché io avendo 12 anni e mezzo Non le dico tanto spesso Magari me ne scappa una Ogni tanto Però è raro In molti mi hanno chiesto Come mai non faccio più video Di ginnastica artistica Beh innanzitutto È la stagione invernale Quindi non riesco a fare Più video all'aperto Perché io li facevo sempre all'aperto E secondariamente Adesso ho mollato la ginnastica E a novembre ho iniziato Extreme Gym Che è un preparatorio per il parkour Quindi magari ragazzi Resistete qualche mese Che poi in estate Porterò più video di ginnastica artistica E se avrò imparato qualcosa Che riuscirò a fare all'aperto Anche di parkour Oltre allo speciale di 4.000 iscritti su Youtube Siamo arrivati anche a 400 iscritti su Instagram Quindi doppio speciale E mi raccomando Iscrivetevi anche lì su Instagram Che cerco di pubblicare una foto O un video al giorno Cerco di essere costante anche lì E cerco di essere molto attivo anche con voi Riguardo a rispondere ai vostri commenti E per quanto riguarda i commenti Ne state veramente lasciando tantissimi E soprattutto molto positivi E io ragazzi cerco di rispondere a tutti Credo di essere uno dei pochi Youtuber Che risponde a quasi tutti i commenti E calcolate ragazzi Che studio 3 ore 3 ore e mezza al giorno Faccio sport E esco alle 2 da scuola Quindi è veramente un'impresa per me Rispondere tutti i giorni ai vostri commenti E poi cerco anche di portarvi video di qualità Però lo faccio volentieri Perché voi mi date tante soddisfazioni Vi adoro E mi date tanta carica In molti mi chiedono se li posso salutare in un video Ma ragazzi non è che in un video del gancio Vi posso salutare Perché sarebbe inopportuno E io ho pensato Perché non fare di più? Voi mi mandate una fanart Un disegno Una foto che mi riguarda E che personalizzerete voi E io la pubblicherò O su Instagram O su Facebook Ringraziandovi pubblicamente Quindi è molto più che un saluto Perché non si è mai visto nessuno salutare nei video Per esempio Dexter Beastard Questi personaggi qua Non si sono mai visti salutare nei video Però io ho voluto fare di più Se vi voglio rendere partecipi Nella mia community E se volete essere salutati E addirittura ringraziati Mandatemi i vostri disegni O comunque fanart Che mi riguardano Che riguardano Lucas Gym Questo video Dello speciale di 4.000 iscritti È finito Spero che vi sia piaciuto Se fosse stato così Mi raccomando un bel pollicione in su Commentate qua sotto Con I prossimi video da fare Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se vogliamo arrivare ai 5.000 iscritti Mi raccomando Iscrivetevi anche a Instagram Facebook e Twitter Che trovate Sempre in descrizione Dal vostro Lucas È tutto Ciao belli Grazie Un bacio Ciao 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 Grazie a tutti.